è entrato il Napoli, arriva anche l'Inter e dunque siamo pronti per vivere questa partita può puntare l'avversaria, Marinelli finta va sul fondo, Marinelli mette il cross, il pallone in area attraversa tutta l'area, poi conclusione dalla parte opposta Bonetti e l'Inter è riuscita a far correre veloce il pallone da destra a sinistra liberato, mancina avanti, controllato però da Simonetti che si gira, salta due avversari, ottima la giocata palla dentro per Carciuni che si gira, Carciuni dal limite dell'area, un sinistro chirurgico di Carciuni e l'Inter al venticinquesimo è in vantaggio trovare lo spazio per il tiro la servita Pandini, giravolta a Buona stoppa di petto, bene Soledad controllo con la coscia palla centrale per Mauri, al limite dell'area Mauri va a calciare un bacio al palo e il pareggio del Napoli al primo tiro in porta la rete di Claudia Mauri che esordisce così con la maglia del Napoli con un gran gol con Mauri che è arrivato al limite, ha avuto troppo spazio e con un gran destro a sorpreso Durante che non poteva arrivare su questo pallone perfetta l'esecuzione balistica bravissima Soledad poi Durante prezzata da Popa di Nova rischia il dribbling consegna il pallone a Toniolo la porta è fuota Toniolo la calcia sul palo e poi fuori colossale palla-gol qui ha rischiato il dribbling ma di fatto è diventato un passaggio per l'avversaria nasce attaccante ma si è trasformata ormai in centrocampista offensivo palla di Soledad per Popa di Nova altra incomprensione tra Merlo e Durante Bonetti spazio al limite dell'area cerca l'imbucata proprio per Polli traversa si presenta così vediamo bello il movimento e ancora Landstrom di nuovo a cercare a Giarrangioia poi Polli Simonetti al limite dell'area Simonetti calcia ha un soffio dal palo la conclusione di Flamini e Simonetti utilissimo l'ingresso in campo anche di Elisa Polli qui Severini palla sul secondo palo stacca di Marino la palla destra in area di Marino traversa e la palla non è entrata gigantesca palla gol rivediamo colpo di testa poi sul secondo tentativo la palla schizza dalle parti di Merlo Cargiunì in posizione di ala cerca il cross diventa un tiro la palla destra lì Portales con il salvataggio sulla linea di Di Marino con il cross di Cargiunì che è andato a sbattere sul palo è diventato un assist per Portales Cargiunì crossa in mezzo libera l'area Garnier fischia tre volte Ricci finisce uno a uno tra Inter e Napoli grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti